alle due ultime interpretazioni si potrebbe tentare di opporre quanto segue se non volete ammettere che col nome di cielo e terra sembri indicata la materia informe esisteva dunque qualche cosa non creata da dio e che lui ha impiegato per creare il cielo e la terra nella scrittura infatti non si fa nessun cenno alla creazione di una tale materia per opera di dio a meno di non intendere che la disegnò con le parole di cielo e terra o soltanto terra là dove si dice in principio dio creò il cielo e la terra e per quanto riguarda il seguito la terra era invisibile preda del caos ammesso che la scrittura avesse voluto disegnare così la materia informe non la possiamo intendere diversa da quella che dio creò dove è scritto prima creò il cielo e la terra di fronte a questi argomenti i difensori delle due ultime opinioni che abbiamo esposto dell'una come dell'altra risponderanno dicendo non neghiamo certamente la creazione di questa materia informe da parte di dio da cui derivano tutte le cose buone come affermiamo che un ente creato e formato è un bene superiore ammettiamo però anche che un ente creabile e formabile sia sì un bene inferiore ma sempre un bene quanto al fatto che nella scrittura non si fa alcun cenno sulla creazione della materia informe da parte di dio essa tace anche di molte altre ad esempio dei cherubini dei serafini dei troni dominazioni principati potestà enumerati separatamente dall'apostolo che pure sono senza dubbio tutte opere di dio se poi nelle parole creò il cielo e la terra fossero comprese tutte le cose che dovremmo dire delle acque sulle quali si librava lo spirito di dio se si intendono comprese nel nome di terra come mai si applica quel nome alla materia informe quando le acque sono perfettamente visibili o se si intende così perché sta scritto che da questa materia informe fu creato il firmamento che fu chiamato cielo e non furono create le acque oggi queste acque che vediamo scorrere così armoniosamente belle non sono informi e invisibili e se poi ricevettero tanta bellezza quando dio disse si raccolga l'acqua che sta sotto il firmamento e quindi raccogliendo si presero una forma cosa si risponderà allora per le acque che stanno sopra il firmamento senza forma non avrebbero potuto avere una sede così onorevole e non si fa nessun cenno della forma che hanno ricevuto se quindi la genesi non parla della creazione di alcuni esseri che invece una fede sana e un ragionamento solido non mettono in dubbio se nessuna dottrina credibile oserà sostenere che le acque di cui si parla nella genesi senza nessuna indicazione di quando siano state create siano coeterni di dio perché alla luce della sua verità non intenderemo che la materia informe che nella scrittura viene chiamata terra invisibile in preda al caos e abisso tenebroso fu creata da dio dal nulla e quindi non è sua coeterna sebbene nel racconto della creazione non si faccia nessun cenno del momento in cui fu creata non si faccia nessuna direzione